Imprese, produttori agricoli e sindaci hanno preso parte ieri sera al tavolo tecnico, al centro servizi di Milo, sulle risorse comunitarie. Forse oggi l'ultima opportunità di finanziamento rimasta per enti e privati. Un'occasione importante per dare slancio alle tante eccellenze del territorio etneo. Informare i cittadini di questa opportunità, questa grande opportunità che, come diceva bene lei, forse è l'unica fonte che oramai è rimasta per...